Tanto per cominciare si dovrebbe iniziare morendo e così il trauma è bello che è superato. Quindi ti svegli in un letto di ospedale e apprezzi il fatto che vai migliorando giorno dopo giorno. Poi ti dimettono perché stai bene e la prima cosa che fai è andare in posta a ritirare la tua pensione e te la godi al meglio. Col passare del tempo le tue forze aumentano, il tuo fisico migliora, le rughe scompaiono, poi inizi a lavorare e il primo giorno ti regalano un bello orologio d'oro. Lavori 40 anni finché non sei così giovane da sfruttare adeguatamente il ritiro dalla vita lavorativa. Quindi vai di festino in festino, bevi, giochi, fai sesso e ti prepari per iniziare a studiare. Poi inizi la scuola, giochi con gli amici senza alcun tipo di obblighi e responsabilità. Finché non sei bebè, quando sei sufficientemente piccolo ti infili in un posto che ormai dovresti conoscere molto bene. Gli ultimi nove mesi te li passi flottando tranquillo e sereno in un posto riscaldato con room, service e tanto affetto. senza che nessuno ti rompa i coglioni e alla fine abbandoni questo mondo in un orgasmo.